A sorvolare con il suo elicottero il santuario della Verna è proprio lui, Papa Francesco. Il video risale al 22 di giugno scorso, ma il Papa alla Verna ci potrebbe venire davvero nel prossimo autunno. E proprio in autunno potrebbe già trovare in buona salute quella foresta ferita nello scorso 2015. Era marzo quando una tempesta di vento si portò via una fetta, circa 6 ettari di foresta monumentale nei pressi del santuario francescano. A distanza di oltre due anni gli alberi abbattuti sono stati rimossi e presto saranno in piedi anche tutti i muretti. Voglio ringraziare tutti, voglio ringraziare per la collaborazione del parco, la regione, la provincia che si è impegnata insieme a noi nel tavolo che io ho misi su qualche mese fa. Anche la provincia si è impegnata con un altro importante finanziamento di 20 mila euro che quando avremo finito tutti i lavori si risistemeremo anche gran parte del serciato perché capite bene passando i mezzi e le lastre poi si muovono, insomma ecco sarà risistemato tutto. Per quanto riguarda la piantumazione di nuovi alberi sarà il parco nazionale delle foreste casentinesi Monte Falterona e Campigna a valutare cosa fare ma non prima del prossimo ottobre. Abbiamo già avuto più o meno lo stesso evento sia nel 1800 che nel 1943. Questo significa che questa è una zona già soggetta. Questa volta anziché andare a rimpiantare pensiamo che sia utile vedere come ci sarà una rinaturalizzazione da parte della natura stessa. Già possiamo vedere che c'è della rinnovazione, ci sono degli aceri, dei frassini, dei faggi che già stanno ricrescendo. Naturalmente ci riserviamo se sarà necessario di impiantare anche delle nuove piante di abete bianco e in questo caso piante che vengono comunque da seme o da innesto indigeno e quindi che vengono comunque dal Monte della Verna. Noi siamo in stretta collaborazione e contatto anche con il santuario, con il padre guardiano Francesco. Ecco che su queste cose è sempre stato insieme a noi nel percorso e che anche lui ringrazio. Mi auguro che per la prossima visita e speriamo presto di Papa Francesco sia tutto sistemato.